Oggi parlo di questa sedia, NARA, che nasce da una collaborazione ormai pluriennale con Desalto. Per Desalto io prima di NARA ho già fatto tre sedie. Questa sedia è l'ultimo passo che questa collaborazione ha realizzato. NARA è una sedia che ha delle forme molto particolari, immediatamente denunciano con chiarezza l'utilità di questa sua situazione nello schienale e anche il sedile ampio ti porta proprio a dire siediti sopra di me. Chiaro che questa forma nasce un po' da un processo che probabilmente è proprio frutto di una serie di carezze che col tempo ho dato a questo modello e che alla fine è risultato sostanzialmente a mio avviso capace di soddisfare quello che era il mio bisogno. NARA, pur essendo così confidente nella sua qualità di forma, è frutto dell'applicazione di sistemi industriali piuttosto evoluti. La gamba è prodotta in alluminio pressofuso, quindi attraverso un stampaggio di alta qualità, può essere verniciata o finita lucida. La scocca è un monoblocco con armatura interna in acciaio e con schiumatura in stampo della forma. Anche i tessuti in questo caso sono tessuti molto particolari che hanno una qualità alta. La stessa del colore è risultata utile nell'ambito di questo stand dove i colori presenti erano il bianco e il nero, per cui nasce abbastanza coerente con lo stand questa stoffa che è fatta da bianco e nero tessuto. Secondo me ogni oggetto dovrebbe avere la capacità di esistere come esistiamo noi, che siamo tutti diversi e ognuno ha una vita più o meno lunga, ma perlomeno ha una vita che va avanti nel tempo.